Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. In apertura parliamo dei dati dell'ultimo bollettino Covid. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale il numero dei positivi è 1.081, il 2,67% sul totale dei tamponi che sono stati effettuati. Attualmente il numero è sceso molto rispetto alle settimane precedenti. Parliamo di 29.442 positivi attuali. I ricoverati sono 2.013, meno 63 con il bollettino delle ultime 24 ore. Rimane ancora elevato il numero dei decessi. Parliamo di 24 morti in 24 ore. E intanto la conferenza Stato-Regioni sta discutendo delle nuove linee guida per prepararsi alle riaperture. Ancora non c'è una data ma i territori devono prepararsi. Negli esercizi di ristorazione che prevedono posti a sedere non si consumerà al banco dopo le 14.00. Nei locali al chiuso andranno rispettati i due metri di distanza. All'aperto il metro si riduce a 1.00. In entrambi i casi va tenuta comunque la mascherina quando non si è seduti. Lo prevede appunto questa bozza che è in discussione. Tra le altre misure all'interno dei ristoranti è anche la consultazione dei menu online. Il contingentamento degli ingressi in modo che la capienza del locale assicuri il mantenimento dei due metri di distanza. E la distanza di almeno due metri anche tra i clienti al banco. Nuove misure previste anche per l'apertura delle palestre. Ma no allo sport da contatto fisico sempre secondo la bozza delle linee guida. Secondo il protocollo bisognerà regolamentare l'accesso agli attrezzi delimitando le zone per garantire il metro di distanza tra le persone che in quel momento non svolgono attività fisiche almeno due metri durante l'attività. Bisognerà inoltre assicurare questi due metri tra le persone negli spogliatoi e nelle docce. Per cinema e spettacoli dal vivo le misure si mantengono in scenari a basso, medio e alto rischio. Se integrate con tamponi all'ingresso, test negativi effettuati nelle 48 ore precedenti e completamento della vaccinazione. E adesso parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova che in città ha sequestrato 113.000 mascherine FFP2 ingannevolmente certificate per bambini. 113 mascherine FFP2 pubblicizzate falsamente come pediatriche, corredate di 113.000 confezioni recanti il marchio CEA posto in maniera illegittima sono state sequestrate a Padova dalla Guardia di Finanza. L'operazione condotta dai Baschi Verdi è scaturita da un'autonoma attività info-investigativa che ha permesso di individuare un centro logistico nella zona industriale della città. I dispositivi erano custoditi nei locali usati da un'azienda cinese. Il titolare della ditta, una donna, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Padova e dovrà rispondere del reato di frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali, consegni mendaci e ricettazione. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che l'impresa importava gli articoli dalla Cina transitando dai Paesi Bassi. Il Veneto ha raggiunto il 7% di immunizzazione della popolazione. Sono 343.552 le persone che hanno completato il richiamo. Lo evidenzia il bollettino della Regione Veneto. Il totale delle dosi somministrate fino ad ora è pari a 1.223.617, pari all'87,7% delle forniture disponibili. Le prime dosi sono pari al 18% della popolazione. L'86% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Nella giornata di ieri sono state effettuate 16.356 vaccinazioni. Di queste 9.730 come prime dosi, le restanti ovviamente come richiamo. Incidente stradale questa mattina in provincia di Padova lungo la nuova statale del Santo a Loreggia. Una Fiat Punto condotta da un uomo che viaggiava da Castelfranco con direzione Padova ha improvvisamente invaso la corsia opposta e si è scontrato con un furgone e due automobili. Sfiorando poi un'altra macchina. All'appunto al termine della corsa si è andata a schiantare contro il guardrail. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un malore del conducente, ma la dinamica dovrà essere accertata. E continuiamo con altre notizie, città più vivibili e sostenibili. Ne parliamo nel servizio di Emanuele Compagno, sentite. Il progetto si chiama New European Bauhaus ed è stato lanciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen con lo scopo di creare città più vivibili e sostenibili lungo le tre direttrici della sostenibilità estetica ed inclusione. Anche Venezia si è candidata a questo progetto grazie all'iniziativa condotta da Ca' Foscari e Uav per rendere la città tra le protagoniste europee dei cinque progetti che verranno selezionati e finanziati dalla Commissione Europea. Al progetto hanno aderito molti enti come il Comune di Venezia, la Regione Veneto, Accademie delle Belle Arti, Conservatorio Benedetto Marcello, Sovrintendenza di Venezia, Confindustria, Autorità Portuale ed altre entità. Il tavolo di lavoro è già stato aperto e mira anche a coinvolgere altre realtà europee così da creare una rete internazionale. Alberto Ferlenga, che vediamo in queste immagini, rettore dello Uav, spiega che il European Bauhaus, calato su Venezia, potrà essere una possibilità importante per affermare un nuovo umanesimo capace di restituire alla società un ruolo centrale nell'ambiente. Venezia, infatti, da sempre è centro mondiale dell'inclusione. Anche per la rettrice dei cafoscari Tiziana Lippiello, l'adesione di molti enti a questo progetto unico ed irripetibile è il segnale che Venezia è pronta ad affrontare le sfide del futuro. A Padova procede il lavoro per liberare dalla cubatura i terreni vicino al parco Iris nella prospettiva di allargare ulteriormente il parco cittadino. Grazie a un accordo tra comune di Padova e soggetti privati, circa 4.000 metri cubi degli 8.000 presenti nell'area adiacente al parco vengono spostati ad ovest del parcheggio esistente di via Cavaccio con l'obiettivo di ridurre la volumetria attualmente presente e ampliare l'area del parco con un'ulteriore cessione delle aree al comune. Liberare il parco Iris dalla minaccia del cemento è uno dei principali risultati di questa amministrazione, afferma l'assessore all'urbanistica. Parliamo ancora di parchi, lo facciamo in modo differente però perché da lunedì prossimo 14 parchi cittadini a Padova saranno sorvegliati dai nonno vigile. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina spiega l'iniziativa affermando che si tratta di un progetto molto importante per l'amministrazione e spiega che i nonno vigile sono delle risorse importanti per il territorio. vigileranno all'interno inizialmente di 14 parchi sia alla mattina che al pomeriggio e l'assessore ha ricordato che è stato pubblicato sul sito Padova.net un bando per la ricerca di ulteriore personale tra questi nonni che vengono definiti una risorsa incredibile per la comunità. Restiamo a Padova, parliamo di viabilità però su tutte le strade della provincia. è stato stanziato un'imponente somma, 942 mila euro per migliorare la viabilità. Sentiamo come. 942 mila euro per migliorare la viabilità delle strade sono stati stanziati dalla provincia di Padova per interventi urgenti su numerosi comuni. Si tratta di miglioramenti alle opere viarie. Oggettività e rotazione dei finanziamenti devono guidare i criteri di scelta assieme alla capacità dei comuni di cantierare al più presto gli interventi ha spiegato il presidente Bui aggiungendo che l'impostazione oltre che aumentare il livello di sicurezza dei 1.200 circa chilometri della rete viaria provinciale diventa un naturale e positivo volano per il rilancio economico del territorio. Ha intervenuto anche Marcello Bano vicepresidente della provincia di Padova con delega la viabilità spiegando che stanno intervenendo con urgenza e celerità in tutti i lavori pubblici in particolare nella ristrutturazione di strade ammalorate o danneggiate da fessurazioni ma nel contempo proseguono anche i nuovi progetti volti a offrire ai cittadini e alle imprese e leader a livello mondiale del territorio servizi sempre più adeguati ai bisogni più efficienti e più radicati sul territorio. Le priorità sono scaturite da un'analisi attenta della situazione elaborata dal costante confronto con i comuni. Ed ora parliamo di clima per la giornata di domani sul Veneto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso il clima sarà ancora molto freddo rispetto alla media del periodo e non viene escluso un ulteriore abbassamento delle temperature minime. Termina qui il nostro spazio dedicato all'informazione dalla Veneto vi ricordo tra poco lo spazio nazionale a cura di Talpress 24 e subito dopo alle 20.30 l'appuntamento con il format da sindaco a sindaco condotto dal primo cittadino di Rovolon che incontrerà il sindaco di Selvazzano. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani. Grazie a tutti i nostri spazio nazionale Grazie a tutti i nostri spazio nazionale